I carabinieri della stazione di Eboli nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie di 49 anni. L'uomo che era stato già denunciato a gennaio per maltrattamenti nella serata di ieri ha inseguito e minacciato di morte la vittima fino alla compagnia di Eboli dove è stato successivamente arrestato. Dopo gli accertamenti di Rito il 52enne è stato trasferito presso il carcere di Salerno.